Ciao a tutti da Cristian TG, il salutatore del blog, eccomi insieme a due grandi, Lillo e Greg che hanno una sorpresa per voi. Un saluto a YouTube, MySpace, Facebook e MySpace, Twitter, LinkedIn, LinkedIn, Badoo e YouTube, io sono YouTube. E andate a vedere il film Colpi di Fulmini. Ciao a tutti. Ciao. Grazie di nuovo.